La casetta di Zenzi in collaborazione con i medici specializzati del Lions Club di Faenza, dopo il successo dell'anno scorso hanno organizzato per il 22 aprile un secondo corso di primo soccorso pediatrico, completamente gratuito e rivolto a genitori e non. Ciao a tutti, io mi chiamo Francesca e cogestisco un baby parking insieme a Caterina. L'anno scorso, il 29 ottobre, abbiamo organizzato questo corso di pronto soccorso pediatrico insieme al Lions Club, seguendo il progetto di Viva Sofia. Sofia è una bambina che ha rischiato di soffocare per colpa di un gamberetto e sua madre conosceva le manovre. Di conseguenza Daniele Donigaglia insieme ai medici del Lions Club hanno deciso di portare in giro questo progetto per aiutare genitori, educatori, chiunque volesse partecipare per capire cosa fare nei casi di emergenza. L'anno scorso si è riuscita a raccogliere 140 persone, siamo state contentissime perché sono venuti davvero in tanti e il progetto è strutturato così. C'è prima una parte teorica e poi una parte pratica. Nella parte teorica ci sono le prime informazioni sulle varie situazioni di emergenza. Invece nella parte pratica fanno proprio vedere le manovre di disostruzione da corpo estraneo e rianimazione cardiovascolare. Un progetto molto importante e avete deciso così di ripeterlo. Esatto, dato che sono stati molto contenti, è piaciuto molto e ci hanno richiesto di rifarlo. Abbiamo deciso di farlo il 22 aprile, sempre martedì, sempre presso il Museo Civico delle Scienze Naturali di Faenza, che c'è sempre molto disponibile e collabora con noi. Come si fa ad iscriversi? Noi li badiamo, quindi cerchiamo di intrattenerli mentre loro seguono la lezione. Questo corso è sia per l'adulto che per il lattante che per il bambino, perché lattante e bambino hanno delle manovre specifiche diverse. Perché secondo lei, lei che comunque lavora insieme ai bambini, è importante conoscere certe manovre? È importante e non solo, dovrebbe essere reso, secondo me è obbligatorio, nei vari posti di lavoro, nei vari posti di maggiore affluenza di gente, come possono essere supermercati, perché purtroppo la cronaca mostra che ancora non si conoscono queste manovre e i bambini non riescono a salvarsi. Non riescono a salvarsi perché anche chiamando il 118 i soccorsi arrivano in media entro i 10 minuti, nella migliore delle ipotesi, ed è troppo tardi. Quindi quando arriva il 118 queste manovre devono essere già state eseguite nel modo corretto.